sei pronto a trasferire il personaggio allora attenzione stai per riprodurre ok x in questo momento non può essere usato non ho capito scusa questo qua questo qua c'è quattro anni sacamp è fatto un passato subito non ho capito 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 ho fatto fatto la storia mi ha trasferito non ho capito non ho capito non ho capito